Al via il rilascio della patente europea sanitaria presso il test center dell'Istituto Van Vitelli di Lioni. A parlare della necessità di integrare la scuola con il territorio è stato il dirigente scolastico Vincenzo Lucido. Un grande soddisfazione posso dire che è un ulteriore punto a favore del nostro Istituto Van Vitelli che è diventato punto di riferimento per i ragazzi ma anche per le istituzioni del territorio. In particolare questo è un nuovo riconoscimento che ci viene dall'AICA che ci ha abilitato a rilasciare la patente europea per la sanità. Ci inorgoglisce e ci conferma ulteriormente nel nostro impegno di sinergie con le istituzioni locali, di apertura al territorio perché questo ulteriore servizio ci consente di rapportarci meglio, di più e meglio con le istituzioni operanti nel territorio e con i professionisti del territorio che possono far capo alla Van Vitelli per conseguire appunto la patente nella sanità che è prevista per l'aggiornamento professionale e quindi per noi è un'ulteriore occasione, motivo per integrarci e per realizzare quella sinergia per la quale ci siamo sempre impegnati e nella quale crediamo perché una scuola che non opera all'interno del territorio, che non si apre al territorio è una scuola destinata a fallire e a morire. Il Van Vitelli di Lioni è da più di un decennio test center AICA per la certificazione della patente europea e CDL Corre All'interno dell'istituto, come vedete, disponiamo di moderni laboratori informatici dove durante tutto l'arco dell'anno, sia i nostri alunni interni che l'utenza esterna hanno a disposizione questi laboratori per sostenere gli esami della patente europea ma soprattutto per frequentare dei corsi di formazione per la preparazione a sostenere gli esami. Ci può dire cos'è la patente europea e in che modo può essere fruibile per il personale? L'ECDL non è altro che una certificazione riconosciuta in tutta Europa che attesta la capacità di utilizzare il PC nelle applicazioni più comuni e quindi è indispensabile per affrontare al meglio il mondo del lavoro. Una grossa novità che abbiamo quest'anno come test center è il rilascio della patente sanitaria EALT Silvano Sciotta, esaminatore del test center dell'istituto Van Vitelli ci può spiegare in cosa consiste la patente sanitaria? La patente sanitaria non è altro che una ECDL però rivolta nell'ambito sanitario praticamente serve a certificare le competenze nell'ambito del settore sanitario quindi è rivolta un poco agli operatori sanitari in genere del settore, tutto il settore sanitario. Ci può spiegare in che modo è possibile conseguire questa certificazione? La certificazione si può conseguire presso il test center sulla base informativa del Policlinico di Milano che è il capofila italiano per la certificazione. Consiste in un esame che si svolge presso il test center e abbiamo però, dobbiamo distinguere due tipologie di EALT abbiamo una EALT che riconosce 22 crediti ECM poi spiegherò che cosa sono e una EALT che riconosce 50 crediti ECM gli ECM sono, è la formazione che il personale sanitario deve sostenere nell'arco del triennio mi pare che siano 150 crediti triennali questa patente sanitaria riconosce fino a 50 crediti ECM e sono importanti per gli operatori sanitari del settore sanitario. A chi è rivolta e come si può iscriversi? È rivolta, ripeto, a tutto quanto il mondo sanitario a partire dalla parte amministrativa fino ad arrivare alla parte vera e propria medica del settore e ci si può iscrivere recandosi presso l'Istituto Van Vitelli presso i test center prenotando gli esami e il test center prenota il pacchetto all'utente che riceve il pacchetto e fa una formazione online nel momento in cui l'utente è pronto per sostenere gli esami ci contatta e noi mettiamo a disposizione i nostri laboratori modernissimi che avete visto per sostenere l'esame EALT Al prossimo episodio